Eccoci, 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 eccoci. Benvenuti. Benvenuti ragazzi, bentornati. Secondo appuntamento di questa super settimana di live con ospiti. Oggi alla mia destra c'è Michele, lo conoscete tutti. Mike, ciao, grazie. Buongiorno, grazie per l'invito. Ti ringrazio sempre pubblicamente perché sei sempre gentilissimo, disponibile e paziente, quindi grazie, grazie. Un piacere. Senti, prima di tutto, come stai? Nel loop, nel senso che il mio loop non è cambiato poi così tanto, a parte quello che sono i miei rituali persi attualmente, come tanti altri. Però, parliamoci chiaro, fondamentalmente per quanto concerne quarantena, situazione pandemica e così via, al di là della chiara sensazione dello stesso effetto che in realtà fece l'11 settembre. Cioè, aspetta, è vero? Cioè, se lo avessi visto in una sceneggiatura l'avrei creduto possibile, no? Invece è vero, come lo era vero allora. Quindi, in realtà, in una situazione come questa, comunque la nostra posizione, la mia soprattutto, in quanto content creator che lavorava da casa già da prima, non ho affrontato grandi differenze o drammi di sopravvivenza. Quindi, bene o male, al di là di quello che è stato, un po' cadere in un vortice ancora più fitto, tutto ok. Bene, bene. Sì, paradossalmente, chi come noi lavora sui contenuti online, sostanzialmente, paradossalmente, esatto, ha sicuramente tenuto botta, anzi, in qualche modo, ha avuto modo e occasione, no? Di lavorare di più, di fare più cose, quindi. Sì. Sì, è vero. Molte di più, molte di più. Anyway, allora, oggi mi hai concesso un'oretta preziosissima del tuo tempo. Mi dispiace, è solo questa, ma sì. No, anzi, grazie. È un bellissimo così. Quindi, cogliamo l'occasione per introdurre un macro tema, ok, sul quale discuteremo, discuteremo in modo quanto più approfondito possibile, tempo permettendo, e poi, magari, dieci minuti finali per la chat, li andiamo a recuperare. Allora, come ti dicevo nel pre-live, io ho visto il tuo intervento nel canale dei Cugini di Multiplayer, settimana scorsa, per quanto concerne l'inside Xbox, ciò che è stato mostrato, non mostrato, ciò che è stato detto e non detto, ok? Quindi, recuperiamo il tema e a questo punto ti chiedo, quanto è in difficoltà, in un certo modo, la comunicazione dei grandi publisher relativamente alla next gen e relativamente al doversi adattare alla situazione di oggi, e quanto la gestione delle aspettative, diciamo, non molto oculata, ma che preme sempre sull'acceleratore quanto più possibile, rischia a lungo termine di avere un contracolpo sulla community. Sono cose che mi piacerebbe discutere con una persona che studia comunicazione, marketing e pubblicità. Io l'ho fatto per un anno e mezzo, due. Non ho conseguito la laurea, l'ho interrotta per il lavoro. In questi casi a me piacerebbe tantissimo, sarà interessante parlarne con te allora, ma a me piacerebbe il classico luminare, l'individuo che ha più della mia vita di esperienza e può darmi qualcosa, perché come consumatore, come professionista e come videogiocatore, in realtà, per quello che sono, certe cose non le capisco, non le capisco a livello umano e sono decisioni che io non avrei preso nella loro posizione, ma perché probabilmente con meno competenza, anche se nella storia abbiamo visto, e questa è una cosa che mi ha messo sempre una grande angoscia, che talvolta, proprio a causa della responsabilità di alcuni individui, quelle decisioni sarebbero state più precise se prese da una persona più semplice, perché talvolta il modo in cui si comunica qualcosa non è così complesso da gestire al punto d'avere il terrore di quello che si fa e farlo conseguentemente in modo sbagliato e cronico, proprio recidivo. A cosa mi riferisco? In realtà, tutta l'infrastruttura, anche delle tre, delle varie fiere, aveva un impatto gigantesco per quanto concerne il pubblico da un po' di anni, perché il pubblico era anche invitato a parteciparvi dentro, ma le tre prima era chiuso, quindi bene o male, specialmente quando è arrivato il digitale, quello che buona parte dei milioni e decine di milioni di videogiocatori facevano non era seguire le tre in diretta o discuterne con i propri appassionati vicini, era aspettare gli articoli che venivano pubblicati in giorni successivi, come è sempre stato fatto da qualunque consumatore normale, non esageratamente affezionato, e aspettavo chissà che cosa esce, io sto aspettando Xbox nuova, o Xbox 4 e PS5. E allora, nel momento nel quale ci sono dei blocchi come questi, e nel momento nel quale ormai il videogioco è tra i più, tra i momenti più proprio emancipati di sempre, era così difficile essere puliti, come anche inizialmente ha fatto Xbox, parlare, mostrare, pianificare, creare aspettativa senza totalmente avere questa sorta di implosione d'ansia che ha portato a dei momenti di grossissimo imbarazzo e danno a quello che poteva essere l'immagine del futuro, perché io capisco perfettamente quello che accade in questi casi nelle major, non a differenza di alcuni magari studi, studios di videogiochi che magari hanno un investimento e rischiano di chiudersi e falliscono, la nuova generazione è una roba che ti dura quasi un decennio, e fondamentalmente se sbagli e perdi, hai perso. A maggior ragione quando Microsoft, se perde, sta in piedi perché vende servizi, e Sony invece, se perde, ne soffre un po' di più. Nonostante il fatto che attraverso il suo attuale semi-monopolio per quanto concerne l'home consoling hardcore, poteva permettersi un pochino più di sia principessa sul pisello, perché è quello che stava facendo fino a un certo limite, e poi invece viceversa magari spocchia e arroganza di presentare cose anche solo a parole, perché è quello che ha fatto in realtà parecchie tre fa quando ha mostrato un sacco di esclusive delle quali ancora non sono uscite tutte, cioè se della Stolas 2 ancora non è uscito, quindi quella cosa se l'è un po' dilatata e portata dietro. Però, però, è questo che a me mi perplime da morire, mi toglie un po' l'attesa e l'aspettativa, perché sembra una cosa tremendamente infantile, sembra di vedere, mano a mano che si cresce, bene o male, come quando le aziende sembrano delle divinità che costruiscono magia e poi scopriano delle pipeline di lavoro completamente infognate che fanno dei casini immondi e c'è veramente il tecnico che si dimentica di scrivere una mail al grafico e succede un casino. Sono cose che succedono proprio in quanto hai lavoro e anche creare una nuova console, produrla e comunicarla è lavoro, di persona. Però, allo stesso modo, io, dinanzi ai movimenti silenziosi, però sicuri come il mostro ally, il mostrare il logo, il mostrare il controller che, come sempre Sony fa in maniera questo è il nuovo controller. Non è il controller migliorato, ma è il nuovo controller. Quindi una cosa molto pomposa che in qualche modo effettivamente è anche vera, perché il DualSense dopo una storia... Il cambio di design, il cambio di tecnologia, il cambio di nome, il cambio di nome di un brand importante è una roba lavorosa, specialmente quando Sony ha sempre, non in maniera disprezzabile, mantenuto la nomenclatura estremamente lineare e pulita. DualShock, due, tre, quattro. Poi certamente abbiamo avuto il momento Sixaxis, però nessuno ne parla più. Però, quindi, ora, abbiamo due situazioni nelle quali, c'è una vacuità di informazione che non è più giustificabile. Nel momento nel quale Xbox diventa praticamente bulimica a mostrare continuamente cose, anche in maniera talmente eccessiva, da sovrastimare quello che le persone dovrebbero accettare, visto che, insomma, non puoi continuamente parlare di next gen e di futuro, nel mentre contemporaneamente presenti il fatto che tu il futuro davvero non lo vuoi in quanto vuoi che tutti possano giocare allo stesso modo. C'è una certa dicotomia in queste ricomunicazioni. Vi mostriamo la next gen, ma tranquilli che tutto gira su tutto, anche l'Xbox One S. Esatto. E che cazzo, scusami, cioè... E allora, come pretendi di avanzare un media? Cioè, se l'Xbox One S, che è inferiore alla PS4 Slim, ricordiamolo, deve far girare tutto quello che nei prossimi anni, fino probabilmente al 2022, girerà su Xbox Series X. Ecco, ora però, c'è da capire bene una cosa. Non è detto che questo, ovviamente, dipenda anche per i third party. I third party probabilmente potranno fare esclusive ninth gen e basta. Però, comunque, il modo in cui quello comunichi, specialmente alla massa, dici, ma vabbè, bello! Non devo comprarmi l'Xbox nuova. E questa è una cosa che abbiamo già discusso, appunto, sia con multiplayer, sia in tante altre sedi. Però, bene o male, a me non dispiace, ma allo stesso tempo non mi fa capire come mai comunicare tutte queste informazioni e trailer con questo fomento molto, molto vecchi e tre in cui si giocava tanto al PR stunt e così via, che piano piano, con la maturità del settore, che purtroppo forse in realtà sovrastimo io, dovrebbe cominciare a calare. È così bello avere una comunicazione, non dico paritaria, però perlomeno pulita tra azienda e consumatore, specialmente quello avanzato, che è colui il quale segue queste cose, così come i giornalisti e così via. Io, per esempio, ho trovato all'imito inspiegabile, come dicevi tu, per una questione di trasparenza e semplicità, che alcune volte manca il voler giocare nella zona grigia sul termine gameplay nel 2020. Sì, quella però è stata molto più Ubisoft. Esatto, esatto, ma è veramente inspiegabile, senza contare che non c'era la necessità di giocare, quasi sporco, ma è un termine forte, perché il reveal di Valhalla ha funzionato, cioè il pubblico l'ha accolto molto bene. E quindi perché tirarti la zappa sui piedi in quel modo? Ad ogni modo, io mi sono fatto un'idea sulla comunicazione Xbox in questi mesi, che non dico che sia il limite del complottismo, ma prova a leggere tutto ciò che hanno fatto con una chiave di volta differente. Mi spiego. Il fatto che loro si siano dimostrati così capaci, sicuri e preventivi nella comunicazione dell'hardware, perché andando indietro a livello storico, ne parlavo anche ieri con DadoBugs, io non ricordo che sei, otto mesi prima dell'uscita, in un momento di cambio generazione, esistevano già video e schede tecniche dove la gente apriva una console, la smontava, l'assemblava, la guardava nel centimetro e poi la riassemblava. E quindi non è che, legandomi poi a quello che hai detto tu, per Xbox Serie X è molto importante, chiaramente è importante, ma non è la vera cosa che vogliono vendere. Esatto, esatto, sì, sì, è precisamente quello che ho detto anch'io, è quello che penso e fondamentalmente in realtà è quello che hanno anche detto, cioè implicitamente e quasi esplicitamente, perché è una cosa anche estremamente rispettabile, creare l'ecosistema è dare libertà al consumatore, e la libertà al consumatore è una cosa molto bella. Esatto, è una cosa che a me piace da pazzi. Ma allora, Sony, se sa, perché non sono mica storditi, se sa benissimo che questa comunicazione da parte di Xbox è sia aggressiva, ma non solo, hanno persino, con una certa spocchia perfettamente giustificabile da quello che è appunto marketing e PR, detto che nemmeno vogliono fare la guerra con Sony, perché tanto il loro obiettivo è un altro, tipo combattere Netflix, Amazon e company, in quanto vogliono vendere il servizio e non tanto l'hardware, visto che comunque l'hardware, cioè, finisce come finisce il loro. Allora, Sony, nel momento, il fatto è questo, che ti viene il dubbio di cosa accada nella loro mente, perché io posso capire il terrore di ripetere l'enorme gaff di, appunto, ottava generazione, se sai settima generazione, quello che è successo con PS3 è abbastanza drammatico, però poi comunque non soltanto vinsero la risalita, però allo stesso tempo svilupparono poi in questa gen un linguaggio completamente diverso anche nei confronti dell'hardware di come veniva presentato. Necessità virtù. Esatto, tu hai la vittoria di questa generazione e questa sorta di trono che nasce proprio dal fatto che il giocatore viene assorbito in una fidelizzazione e da un gruppo di amici che decidono di acquistare la tua console per esclusive, fondamentalmente. Perché fondamentalmente... Perché al di là di quello che effettivamente in questo caso è stato all'inizio il fatto che PS4 fosse più potente, ma è stata la prima volta nella storia di Sony contro Microsoft che la sua console era più potente, prima, ovviamente, di Xbox One X, veniva comunque creato questo insieme nel quale, anche se magari il multipiatta non era perfetto su PS4 Slim e così via rispetto magari a una versione Xbox, per quanto non era assolutamente visibile la differenza come all'epoca PS3 360, lì proprio io non dimenticherò mai Bayonetta su PS3, un brutto ricordo, però hai questo potere. E allora? Nel momento nel quale hai visto che bene o male le persone sono fidelizzate in quel modo e che sono chiaramente nate e mosse soltanto da passione, senza troppa critica in questi casi, allora, se tu hai questa aggressività dal tuo competitor, che comunque tu vedi come tale, come giusto che sia, è impossibile che tu non possa avere già una sorta di pianificazione su quali release, quali progetti sviluppare, o avere già in sviluppo per poi averli in presentazione, in pompa magna. Quindi, secondo me, i casi sono tre. Quello più plausibile, secondo la mia analisi totalmente umile, è che, sì, hanno timore del prezzo, stanno tenendosi sulle loro perché sono molto preoccupati rispetto a quello che è effettivamente un limite della storia dell'industria videoludica giapponese di avere a che fare con hardware e queste cose qua, di come gestire tutto questo, però al di là di questo dettaglio, comunque non è il focus principale della comunicazione, è solo il finale, diciamo. Il finale, esatto. Esatto. Quindi, ok, sono preoccupati di questo, ma fanno un po', e non mi stupirebbe troppo, le tre scimmie. Si tappano tutto e dicono la nostra comunicazione, vivono in una bolla, questa è una cosa totalmente ipotetica, ma vivono in una bolla in cui quello che fa Microsoft non conta, quello che fanno i competitor non conta, quello che conta è soltanto immaginare come se fossero da soli nel mondo, il percorso che hanno in mente. Quindi, mostriamo il logo, mostriamo il controller, facciamo vedere contemporaneamente poco prima l'hardware alla GDC, che poi è diventata pubblica, non era chiaramente una cosa voluta, o meglio, è stata voluta, ma non pensata moltissimo, però era, quello era perfetto per la GDC. Andiamo lì. e poi, a un certo punto, come abbiamo sempre fatto, stavolta meglio, perché abbiamo Barlog, Guerrilla e Gente, che probabilmente sta facendo gli smanettamenti pazzi, facciamo vedere la PS5 con i giochi, esclusiva, e abbiamo vinto la console war per i prossimi sette anni. Ogni tanto però, ogni tanto però rinsaviscono, Mike, secondo me, e piazzano il trailer di The Last of Us 2 il giorno prima di Inside Xbox. Ci dicono, no, non facciamoci proprio gli affari nostri, comunque facciamoci vedere che esistiamo, comunque sì, sono d'accordo. Però questa è un'ipotesi pazza, perché significa comunque avere un, una fortissima direzione, ma anche una ingenua mancanza di consapevolezza della serie. Non si sarebbero mai aspettati che Microsoft pompasse informazioni e facesse smontare la sua nuova console alla gente. Cioè, è ovvio che non te la aspetteresti mai, men che mai, a quei livelli. E quindi, a questo punto, hanno visto che succedeva questo, hanno continuato sulla loro strada, che è diventata, a causa di Microsoft, parzialmente timidosa, silenziosa e preoccupante. Perché se Microsoft fosse stata, allo stesso modo, umile, non umile, fosse stata silenzia, meno rembante, allora nulla si sarebbe creato come discussione. Perché? E arriverà quando arriverà. Tanto se è parlato di Holiday 2020, magari, da settembre in poi, scoppiano le bombe. E invece no, qui si è creata sta differenza e la gente ha cominciato a discutere. Quindi, o uno, Sony sta andando per la sua strada, ignorando queste conseguenze, oppure, due, sta in realtà reagendo proprio a causa di Microsoft e non vuole mostrare solo il logo di Horizon Zero Dawn 2 o solo un landscape di God of War 2, perché le si potrebbe dire, come è passato tempo fa, come è successo in passato, raga, però dovrete un attimino evitare di mostrare i trailer di giochi che escono dopo quattro anni. Esatto, io volevo arrivare proprio lì, poi ci arriviamo. Quattro o cinque, in realtà. Oppure, come ultima situazione, sono nella merda e non hanno niente in mano. Non penso, dai, mai. Esattamente, per questo l'ho detto a coppa ultima. Io ho detto tutte e tre le opzioni possibili. Cioè, oddio, no, la storia comunque ci insegna dei grandi tonfi, ma l'hai detto anche tu, PS2, PS3, quindi, però, essendo precedente, essendo precedente, esatto, io non ci credo, nessuno può fare due volte quell'errore, specialmente perché il DualSense solo e unicamente a guardarlo e a leggerne non è il Six Axis. Cioè, il Six Axis esattamente quando fu presentato, vabbè, sti cazzi, cioè, ah, si muove, ok, cioè, già prima ancora che uscisse era un, meh, ok, non serve, vabbè, vedremo, chissà quale idea carina, mentre il feedback apoptico, come si dice? Aptico. Aptico è una cosa che sicuramente già di per sé è più interessante e si lega a qualunque videogioco, qualunque, dal pedale della volante al grilletto del proiettile del fucile, proprio quello è assoluto e poi hanno preso questo ed è un'ottima idea. Sì, 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 è un'ottima idea perché chi è cresciuto videogiocando non, ne ho viste tante discussioni così, eh, chi è cresciuto videogiocando è normale che dica, ma io non trovo nessuna scomodità col controller PlayStation, ci mancherebbe altro, ti sei anche adattato e allenato, io stesso lo vesto come un guanto, però allo stesso tempo questo è meglio. Che economia e propria istruzione applicata al videogiocare del pad xbox sia vincente, questo è indubbio, ma non è netto né di atrib, è una constatazione, cioè è una constatazione, guarda, io sono molto d'accordo con te e penso che poi tutto questo discorso vada a sfociare in una considerazione finale di cui deve per forza Sony tener conto, ovvero benissimo il brand awareness, benissimo il voler temporeggiare, benissimo il scatenare l'inferno anche solo con l'immagine del dual sense, benissimo tutto, ma arriverà il momento in cui dovranno aver dimostrato, dovranno dimostrare di aver capito, di aver imparato la lezione e come dicevi tu è quella legata al reveal dei giochi o meglio, io tutto ciò che verrà presentato legato a PS5 lo desidero, cioè no, lo voglio proprio imperativo entro marzo 2022, non è più ammissibile, non sarà più, quello sarà secondo me un possibile effetto boomerang, perché stiamo vedendo recentemente Xbox, ma anche Ubisoft, ma anche tanti altri publisher che l'annuncio e release è sei mesi, otto mesi, un anno Rockstar Corrida The Redemption 2, Legend, Sì, ok, però diamogli tempo, dai, diamogli tempo, adesso a luglio c'è l'evento e ci diranno è sparito, boh, cos'è Watch Dogs, non sappiamo più cos'è, no, scherzi a parte, non possono più far vedere prodotti a 5-6 anni di uscita, 4 anni, 3 anni, il fatto è questo, secondo loro l'identità di avere quel brand presente anche se non in arrivo diretto è importante, stavolta se non lo stanno facendo presumo che sia proprio per i precedenti, tuttavia, escludendo in realtà magari Ghost of Tsushima e The Last of Us, era stato incredibilmente interessante il mostrare il videogioco come God of War, dare una finestra di uscita e poi vederla veramente bene o male, anche a sorpresa, rispettata o gestita bene, però non più volte, quello che fece Sony fu presentare più volte una finestra, sempre finestra, sempre finestra e questo stuccava, in realtà quindi all'inizio della generazione sono d'accordo con te, devi assolutamente essere un pochino tac tac tac, specialmente perché se sei stato silente per così tanto tempo allora vuol dire che si presume tu ci stessi già lavorando dietro. Se poi nel 2026, nel 2025 mi fai dei trailer per fine gen 2028 mi va bene, però perché ormai sei già rodato, sei lì che bam 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 bam, no? quindi e soprattutto secondo me ci vuole anche un'esclusiva serie al lancio e per serie intendo sarebbe quasi la prima volta esatto, esatto, sarebbe non Gran Turismo nel senso parlami il termine, passami il termine, l'esclusiva estremamente mediatica, estremamente blockbuster tu adesso mi hai fatto male perché mi hai fatto male perché mi hai toccato nel cuore io non ho mai a parte il fatto che sarebbe cioè tu c'eri siamo abbastanza grandi da esserci stati in quel momento della storia del videogioco io non mi dimenticherò mai da appassionato di videogiochi di simulazione o arcade di guida o misti come Gran Turismo cosa fu l'attesa di Gran Turismo 5 una roba comica mamma mia cioè praticamente è stato Final Fantasy 15 10 anni una cosa allucinante specialmente a quell'età era una cosa infinita con le riviste non c'era neanche internet quindi però allora da una parte sarebbe sconvolgente avere un Gran Turismo al lancio quasi impossibile perché dice ma ce l'avete fatta dove quando quando ci avete lavorato però per quanto io mi ci getterei veramente come una termite è ovviamente non mediatico cioè è una nicchia famosa è una nicchia feroce è una nicchia d'amore perché ci sono i forum di Gran Turismo che vanno ancora a cannone facendo contesti di foto mode sfide anche se ho sentito io non ci gioco mai non ci gioco da quando è uscito Gran Turismo Sport mi sono fatto le patenti e basta old school proprio eh sì esatto esatto ho preso tutti gli ori mi sono sentito il dio dell'Olimpo e basta però so che il multiplayer è punisce poco chi fa lo sgargiullo eccetera questa è una cosa che sicuramente inficia però questa community c'è ancora quindi però è quella è quella è quella quindi giustamente come esclusiva di impatto di generazione serve il massivo anche perché anche perché Xbox e io me lo aspetto me l'aspetto una campagna di comunicazione proprio martellante loro spingeranno sul fatto che ti compri serie X a novembre hai 48 ore una settimana di Game Pass inclusa e giochi ad Halo Infinite gratis esatto esatto attenzione per quanto Halo lo sappiamo allora è uno dei brand dei franchise più remunerativi della storia ma oggi in questo periodo storico ha bisogno di rivalsa o meglio bisogno di riacquistare credibilità nei confronti in primis della sua community poi di tutto il mercato potrebbe essere veramente il grande il grande diciamo comeback che funzionerebbe molto bene visto quello che sta investendo Microsoft in Infinite quello che penso pensi anche lei perché fate questo Halo è in una situazione stranissima è l'unico franchise che mi viene in mente in assoluto che è in questa posizione ossia quella di essere sulla punta di un ago in cui hai a destra l'abisso e la morte dell'IP oppure l'esplosione atomica che la fa tornare ad Halo 1 e 2 perché sono tutti innamorati appassionati ma anche molto stanchi e quindi o mi fai l'evoluzione che molti non hanno apprezzato in 4 e 5 creando il Halo 2 quello vero il sequel del franchise oppure stucchi come ha fatto Gears of War nonostante il 5 sia una bellissima opera a me è piaciuto per esempio io ricordo la Gamescom di anni fa quando provai il 4 senza essere appassionato del franchise e rimasi stuccato immediatamente mentre poi il 5 mi catturò l'attenzione subito perché hanno avuto una sorta di però vediamo ecco però è evidente ne parlavo anche ieri di questo il Gears 5 è un buon prodotto a me è piaciuto ha pagato Dazio tra virgolette di essere l'unica esclusiva di peso nel giro di un anno e quindi la gente si aspetta se tu hai un esclusivo mi aspetto The Last of Us non mi aspetto il gioco bello ma e poi però secondo me ha messo in evidenza una cosa abbastanza chiara che il brand ha dato tutto con quella formula esatto esatto sì esatto è quello cioè vogliamo andare avanti cambiamo perché altrimenti ho dato tutto ciò che potevo dare è quello che abbiamo detto anche altrove il fatto è questo Microsoft ha acquisito degli studios ed ha sempre molta fiducia avere queste diciamo proprietà però queste proprietà possono essere anche delle armi a doppio taglio perché talvolta è già successo in passato che acquisisci Rare e poi che gli hai fatto fare certo motivo per il quale c'è questa fucina di cervelli che è The Initiative che sta lavorando chissà che cosa al primo vero blockbuster generazionale per quanto riguarda Xbox probabilmente io spero che non siano andati a recuperare Perfect Dark cioè spero che siano un nuovo IP ma non perché non per demerite ma perché ha bisogno di cose nuove di rivendersi agli occhi della gente è vero che Perfect Dark è abbastanza anziano da poter essere tirato fuori senza risultare stucchevole specialmente se gli vai a sviluppare intorno praticamente una nuova IP con quel brand che potrebbe quasi fare però capisco cosa vuoi dire e Microsoft tende a essere un pochino troppo chioccia con le sue IP piuttosto che di crearne altre tiriamo un altro gioco è così è così è questione di mia interità e poi c'è Playground che sta un po' lavorando il segreto di Pulcinella che dovrebbe essere questo fable io mi aspetto un reboot per l'amore del cielo esatto non puoi fare un sequel basta esatto e poi vedremo qualcuno in chat diceva ma secondo voi la grande esclusiva al lancio di PS5 potrebbe essere un sequel io dico ancora peggio nel senso se ci sarà una grande esclusiva al lancio sarà un sequel indubbiamente è molto probabile che se riescono a fare una mattanza del genere che è praticamente first time in history sarebbe Horizon Zero Dawn 2 esatto anche perché io io sto sto invecchiando invecchierò sto crescendo invecchierò con una mancanza non una lacuna è una lacuna del mio cuore tu adesso io capirai cosa intendo e se hai mai avuto passione per quel franchise e quello studio farà male perché più o meno è già successo con PS4 ma immaginare PS5 senza Liverpool che mi faccia un wipeout è una roba che mi ammazza c'è sempre stato un wipeout a generazione non ci sarà non ci sarà mica stavolta anche secondo me lo studio di Liverpool non c'è più non c'è più hanno chiuso Liverpool e Manchester giusto? sì e quindi abbiamo la Omega Collection che è un canto del cigno di remaster da Dio però è una remaster cioè uffa e quindi è ovvio che se non mi fai Ridge Racer se non mi fai wipeout perché ormai costerebbero talmente tanto e farebbero tornare talmente poco perché Ridge Racer era una tradizione che vendeva a zero però era bellissimo che ci fosse a parte Type 4 che sta sull'Olimpo Eterno però quindi tirar fuori qualcosa che ha già venduto tanto e che venderà di più cioè fondamentalmente di più a livello di impatto ma di meno a livello di numeri perché ovviamente un cambio di generazionale ti vende zero il gioco e poi titoli arcade chiamiamoli così per dare una definizione diciamo quanto più calzante possibile a livello di first party non è che ce ne sono poi più tanti cioè Ori vogliamo considerare un arcade no cioè quel tipo di gioco lì sviluppato come esclusiva difficilmente se ne rivedono ultimamente hanno un po' perso eh vabbè perché di nuovo costano tanto e poi costano tanto è un po' come e ne parlavo anche qui non mi ricordo quando me ne ho parlato recentemente i giochi per bambini ce ne sono pochissimi ah vabbè sì hai ragione sono completamente non dico scomparsi ma io quando ero ragazzino mi ricordo per esempio giocavo a Ugo te lo ricordi oppure a Hercules a Bugs Bunny Lost in Time Ugo no però Hercules era forte le pestemmie con Ugo mamma mia lascia stare comunque Bugs Bunny Lost in Time non ci sono più quei giochini lì è perché 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 insomma il fatto è questo io posso capire c'è Switch che ci prova un pochettino eh sì però Switch sta con Yoshi il fatto è questo io potrei buttare a intuire qualcosa nel senso che prima questi videogiochi erano comunque costruiti da aziende bene o male tutte un po' importanti da sai ignosi sai vecchi fast insomma perduti le quali avevano uno spazio stare su quella console quello era uno spazio limitato visibile preciso oggi è un puttantour perché hai tutti gli store con un quality control ridicolo ovviamente da appunto mercatino cinese eh e entra tutto entra tutto e questi store queste finestre sono impestati di l'arciume assoluto e quindi fare qualcosa di quel tipo verrebbe talmente soffocato da qualunque forma di indie green light spazzatura anche su Switch purtroppo sta iniziando anche lì e a questo punto è un investimento specialmente legandosi a IP che costano l'ira del signore i tie-in ormai che secondo me si perde quella volontà di rischiare e perdere quasi sicuramente però non lo so l'ho buttata lì no no ma è una spiegazione più che razionale qualcuno in chat diceva ma i giochi per bambini ci sono Overcooked è un gioco per bambini no Overcooked è il gioco del demonio non è il gioco dei bambini perché diventa estremamente hardcore a un certo punto cioè è tutt'altro che un gioco per bambini i giochi per bambini per ora sono stati soltanto le remaster plus di Crash e Spyro esatto i giochi lego i franchise lego lego star wars lego langers c'era little big planet che bene o male per un bambino come dreams può funzionare ma dreams molto meno di little big planet perché comunque è un po' più complesso trovare cose carine e bene o male poi qui il bambino viene assorbito da quelle che sono e soprattutto il mobile e su mobile anche Mike lì si sono spostati sono diventate un po' cazzatine addicted nel senso che ti incollano al cellulare però non hanno quella magia quella ricerca di quei giochini che giocavamo noi da ragazzini sostanzialmente questi capelli sì chiaro memorabili sicuramente sicuramente la situazione interessante volevo cambiare un attimo provare a voltare pagina visto che questo argomento l'abbiamo anche esaurito la chat è contenta è un argomento che non ho ancora affrontato per volontà proprio perché non voglio parlarne non volevo parlare non volevo dare spazio a quella roba lì però facciamolo The Last of Us gli spoiler le minacce di morte a Drakman la reazione della community come ti spieghi escludendo il fattore ignoranza che spiega tutto ok però provando ad approfondire un po' come ti spieghi una reazione di questo tipo proprio rabbiosa la reazione di questo tipo me la spiego perché è normale c'è sempre anche tutti bene o male qualunque sviluppatore che ha fatto qualunque cosa si è beccato minacci di morte ormai la minaccia di morte è una roba dell'entitlement del consumatore che ha perso ogni misura cioè il sentirsi in diritto di ricevere e di essere colui il quale può è il consumatore di oggi è quello che ha fatto fare che ha dato minacce di morte al giornalista che annunciò il ritardo di Mnomen Sky cioè complimenti però parliamo da questo presupposto io non conosco i spoiler di The Last of Us quindi e scusami in chat abbiamo dei moderatori che sanno fare il loro mestiere quindi no problemi giochiamo giochiamo alle ipotesi folli non conoscendo gli spoiler e capendo quello che potrebbe essere successo rispetto alla furia al di là del fatto che The Last of Us ha una storia fondamentalmente basata su una forte realisticità degli eventi quindi non sono personaggi sono persone e le persone non sono mai qualcosa di molto semplice da gestire specialmente perché esistono i colpi di testa e quello che potrebbe essere il contesto ora tutto quello che ho letto in giro sui spoiler è mi avete rovinato i personaggi ora ora escludendo qualche colpo di tosse piuttosto fastidioso in Uncharted 3 bene o male non sono scritti male i titoli di Naughty Dog per niente quello che mi è dispiaciuto mi fa incazzare come una iena è probabilmente il dietro le quinte che ha portato certe personalità come la sceneggiatrice ad allontanarsi e così via non sappiamo cosa è successo di solito queste cose effettivamente non nego per niente che mi preoccupano molto perché quello che ha portato Mass Effect 3 è un company va bene non c'è ben poco da difendere in questo caso non sono cose che mi fanno presagire nulla di buono ma senza sapere nulla se uno legge per assurdo a un certo punto Joel impazzisce ammazza Ellie e poi si suicida o comunque si ammazzano fra di loro Ellie uccide Joel e poi diventa l'antagonista impossibile ma anche fosse possibile se tu leggi infatti questo c'è una certa differenza fra sinossi sceneggiatura e il riassunto di un leaker che io ovviamente non l'ho letto quindi anzi qualcosa è persino di peggio i protagonisti perdono importanza io ho sentito cose tipo ah non sono più importanti perché non gli date importanza un protagonista non importante cosa può essere che a un certo punto a differenza di renderlo un super uomo completamente irrealistico in The Last of Us 1 perché Joel sarebbe morto in The Last of Us 1 a causa di alcuni eventi o comunque non sarebbe rimasto molto molto sano a un certo punto un protagonista muore di colpo un po' come si potrebbe definire certe opere che hanno lasciato il segno dell'animazione come Teng and Toppa senza fare spoiler lì e la cosa va in un'altra direzione completamente e tu sei stato beitato in The Last of Us 2 ma poi il tuo giocatore magari Ellie muore all'inizio perché in realtà però basta vedere lo story trailer mi sembra che arrivi decisamente fino alla fine mi sa che c'è tanta però metti caso muore la protagonista di colpo e in realtà scopri che vivi qualcos'altro attraverso un ricordo di Ellie che ne sappiamo tutto può essere quando hai la libertà di scrivere ciò che vuoi ora che cosa è successo quindi qualunque sia la cosa che hanno letto se la leggi come riassunto e sei una persona che non è esattamente molto sensibile a quello che potrebbe essere una scrittura hai una lista di eventi che per forza di cose qualunque essa sia sarà sempre mediocre se non è esattamente quello che ti aspettavi tu ovvio e bene o male la trama di The Last of Us in riassunto per favore Dio santo è un Zeta movie è uno Zeta proprio sì Zeta movie è uno zombie movie di bassa 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 lega uh guarda si scambiano le razioni per pagarsi c'è una nuova valuta ci sono criminali sono d'accordo oh mio Dio i veri cattivi sono le persone no? gli zombie mai sopravvissuti motivo per il quale motivo per il quale io sono d'accordo nella definizione quando tu definisci la sceneggiatura non la sceneggiatura il soggetto di The Last of Us una roba trita e ritrita e vista e rivista è verissimo esatto ma è il racconto è bravo è il racconto e sono i personaggi esatto è come racconti qualcosa specialmente attraverso il media un video ludico che era effettivamente abbastanza inesplorato sotto questo punto di vista il fatto è che le persone che mi vanno a dire potrei dar loro ragione un giorno magari non alle minacce di morte ma magari a una manifesta e incomprensibile bot di incompetenza ehi i colpi di testa ce li hanno anche i professionisti o i presunti tali chissà magari una frode questo Druckmann cosa che non credo proprio sia anzi mi è sembrato fino ad ora un grande artista una persona che tiene molto quello che fa però io cerco di mettermi nella testa degli eccessi è utile ragionare per assurdo e quindi che cosa succede che queste persone che potrebbero avere una percentuale intorno al 15% ragione chi lo sa lo scopriremo non comprendere la differenza fra personaggio e persona scritta come personaggio che cosa intendo dire che non so se qualcuno farà colpi di testa brutti o diventerà più cattivo del solito ma Joel che io tra l'altro prima di di sapere trailer nuovi eccetera ero convinto fosse morto prima dell'inizio di The Last of Us 2 ma quanto pare no era già una persona di merda in The Last of Us 1 cioè una brutta persona e che questo possa solo che peggiorare specialmente visto il finale di The Last of Us 1 che non lo rende in assommoso una persona sana né buona per niente zero proprio allora è possibile che si vada a finire nello stesso discorso del videogiocatore che si identifica nel videogioco perché lo ha acquistato come fanboy invece qua è un videogiocatore che vede come eroe qualcuno che non lo è che non lo è mai stato esatto esatto se non in cinque minuti di prologo sì esatto ma comunque non era un eroe era un cristiano un cristiano e quindi magari specialmente in una forma di riassunto che non vada a approfondire momenti dialoghi veri e propri situazione aspettativa come ci si è arrivati quello che succede dopo figli miei aspettiamo io sono il primo che dinanzi a una cosa scritta male impazzisco però un riassunto non basta un riassunto non basterà mai perché buona parte delle storie come riassunto fatto da un utente manco a dire una sorta appunto di documento sceneggiativo può funzionare come racconto quindi diciamo che che ti devo dire ovviamente entitlement però ma poi funziona il tuo ragionamento funziona soprattutto perché parliamo di un racconto drammatico e non di un racconto che si basa sull'effetto wow non è quello è brutto è brutto esatto è ovvio è ovvio che drachman and company vendono l'idea del non sarà divertente vedrete non sarà divertente ma è ovvio anche allo stesso tempo che quello che vogliono dire al di là del fare i fichi perché questo questa è una cosa che naughty dog sta facendo da un po' noi siamo quelli che fanno le cose per grandi va bene d'accordo ma però al di là del marketing stunt il videogioco deve essere intrattenente se qualcosa diverte e basta è un altro genere come direbbe Reggie però qui l'affrontare qualcosa di stancante pur se intrattenente è affascinante il punto è ma già della stovase era così sì esatto questa stanchezza nasce da qualcosa di interessante o è il teatrino patetico ecco lo scopriremo d'accordo è ovvio che la pateticità di una storia è un problema se esagera significa che tu vai a cambiare un universo una logica un evento una storia per renderlo più triste e drammatico ma si sente se qualcosa è forzato e si percepisce se invece è vero quindi diciamo che al di là di quello è al di là di quello che potrebbe essere il discorso politico ah è tutto legato a questa sorta di scontro lgbt plus dello stocazzo ma è vero non è vero è un'esagerazione ma che ne so lo scopriremo si vede sempre se qualcosa è forzato e molto spesso in questi casi sono i consumatori a vedere qualcosa di forzato semplicemente perché esiste quindi fly down esce tra un mese peraltro peraltro se volessimo ragionare a posteriori a fare sempre ragionamenti assurdi già la sceneggiatura di The Last of Us 1 non si basava sul plot twist cioè ce n'era forse uno nell'intero gioco e non era neanche così poi determinante no 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 esatto ci siamo capiti probabilmente tutto il resto una volta che ti raccontano il personaggio e che tu vai avanti nel vivere le esperienze di questi personaggi è tutto molto congruo a quello che dovrebbe anche il finale di Joel è perfettamente cucito sul personaggio è come dico sempre io The Last of Us ha il grande pregio che si che si riscontra nelle grandi narrative ovvero la storia al servizio dei personaggi e non i personaggi al servizio della storia voglio dire sono le persone che influenzano ciò che succede e non ciò che succede che influenza le persone o che influenza per forza le persone cioè questo secondo me è il grande pregio di The Last of Us che è il grande pregio di tutti i grandi racconti e bisogna vedere se questo si perde nel 2 ma lo vedremo lo vedremo un risulto non può farlo un risulto non può farlo specialmente un leak è molto delicato poi ovvio il leak ha anche avuto cutscene quindi chissà chissà quanto hanno ragione e quanto no e aspettiamo non posso parlarne troppo perché io non ho visto niente certo fantastico ragazzi allora 10 minuti dai ti propongo un'alternativa Mike esatto leggiamo le domande o parliamo di stadia scegli tu ah ah guarda visto l'argomento che abbiamo discusso fino ad ora meglio le domande perché stadia sarebbe un'altra roba un'altra roba quindi vai rapido allora Mike cosa ne pensi per il momento di Final Fantasy 7 Remake io non l'ho ancora finito manca poco manca poco per ora quello che ho percepito in Final Fantasy 7 Remake talvolta è stato persino respiro di Squaresoft una roba incredibile piena di cose necessariamente dettagliate che però dettagliate lo sono allo stesso tempo di nuovo si affronta la mancanza di studio ed esperienza giapponese con alcuni engine che non sono proprietari quindi è molto importante capire cosa diamine succederà con la versione PC tra un anno perché è estremamente cruciale che sia un grave inciampo quello delle texture dei caricamenti presenti su console e che non sia invece come gli è uscita l'infrastruttura proprio software finale spero che sia una sorta dedica alla memoria mal equilibrata o per il fatto che ci sono talmente tanti asset che hanno sbagliato però per ora è un'esperienza che trovo al di là di qualche aranciata troppo anacquata ma poche veramente eccezionale buono cioè un bel videogioco che non se ne vedevano da un po' sono d'accordo in sviluppo Square Enix sono d'accordo anch'io devo finirlo anch'io devo terminarlo però sottoscrivo ogni parola che hai detto recuperiamo Bito98 che dice ripropongo una domanda per quando avrete terminato il discorso Sony Microsoft Nintendo secondo voi punto di domanda continuerà per la sua strada o seguirà le competitors con una versione Pro della Switch rispondo prima io rapidamente io penso che Nintendo continuerà a vivere il mercato parallelamente ai publisher che si scornano sull'home console ok e continuerà a vivere secondo la sua mission aziendale non penso che Switch Pro che arriverà indubbiamente se ne sente parlare da mesi sia un competitor di serie X esatto ma assolutamente no Nintendo soprattutto nelle ultime due generazioni è la seconda console cioè chi possiede una Switch chi possiedeva una Wii e una Wii U molto probabilmente ha anche o un Xbox o una Playstation o un PC infatti questo hai risposto bene o male in maniera congruente a me perché io sono sicuro che ci sarà questa Switch Pro ma non è una risposta è semplicemente un'alternativa molto interessante che io voglio assolutamente il punto è questo Nintendo continuerà nel suo processo di essere un'altra cosa e di puntare su altre cose il che è sia fantastico sia terribile perché sotto il punto di vista di comunicazione tra giocatori online multiplayer e quello che è l'infrastruttura digitale aiuto salvare però quello vorrei che si sviluppasse ma è molto probabile che noi vedremo nel 2026 la nuova console o nel 2025 la nuova console Nintendo ma saremo in piena non la generazione e quella di Nintendo sarà ottava e mezza ottava è giusto va bene va bene è affascinante perché comunque lei si permette di fare quello che fa non tanto per quello che è la sua fanbase che l'ha anche bastonata più volte in maniera anche numericamente grave ma grazie a chi lavora dei quinte questi creativi e soprattutto la Switch è una bolla è fantastica nonostante io la giochi io la gioco poco la Switch ma ho sempre il pensiero di volerlo fare ed è una cosa importante cioè e quando puoi approfittarne per giocarci è sempre appagante esatto quello che vivo io esatto qua ti prendo in tranello Mike perché ti faccio una domanda dove devi condensare la risposta ok sarà divertente credete davvero che Death Stranding abbia venduto poco e che i rapporti Kojima-Sony siano in rottura ah condensiamo secondo me rispetto alla storia di Kojima non penso abbia venduto poi così poco Kojima non ha mai fatto numeri scandrosi Kojima ha sempre venduto nel range delle 4 milioni di copie e così via con la Metal Gear Saga in forma di sviluppo quindi proprio quando era già famosissimo Peace Walker ha venduto un milione una roba terribile nonostante l'enorme successo di amore per quanto sono numeri sempre difficili da però sì secondo me ha venduto poco ha venduto numeri che probabilmente dal punto di vista di investimento non avrebbero mai soddisfatto qualcuno che abbia messo tantissimo denaro ma contemporaneamente da puro ignorante quale sono perché purtroppo questo è un incubo della nostra posizione non le possiamo sapere queste cose mi piacerebbe tantissimo avere insider di questo tipo io non credo che Death Stranding sia costato molto esatto Death Stranding penso che sia costato veramente poco perché sono fatto molto in fretta con un engine dato gratuitamente con attori che sono stati pagati ma come attori per quanto costino tantissimo credo che la performance capture non sia esattamente pagare 20 milioni di dollari Johnny Depp per un film ma sono tutte cazzate che sto dicendo dal punto di vista istintivo ma al di là di quello che può essere costato l'investimento attoriale che probabilmente è una di quelle cose che può dar fastidio a un produttore in maniera proprio da calcolo renale sono d'accordo investire su attori in un videogioco può essere veramente fastidioso ma allo stesso tempo può essere un marketing enorme io credo che sì ha venduto meno del previsto sì Sony non è felicissima ma no che non hanno cattivi rapporti il cattivo rapporto è una cosa molto più grave del non ha venduto quanto speravamo cioè vabbè specialmente in nome del fatto che continua a essere il diciamo punto di vista pubblicitario enorme che è il nome di Aokojima il suo net value insomma e allo stesso tempo che anche fosse che lui si sposti su un altro progetto non subirà un contraccolpo per Death Stranding specialmente se è legato a un IP magari già conosciuta quindi sono d'accordo secondo me ha venduto meno del previsto sono d'accordo ha avuto un impatto meno positivo di quanto Sony si aspettava mentre secondo me Kojima scemo non era ci ha provato Sony a spingerlo ci ha provato molto a massivizzare secondo me Kojima si è tolto uno sfizio anche in maniera egoistica cosa che non ho apprezzato fino in fondo perché comunque è stato un po' egoista nella sua condivisione ha creato qualcosa che voleva creare e basta e lo rispetto però a un certo punto ha tirato un po' la corda anche secondo me specialmente perché non ha mantenuto alcuni standard qualitativi che ha sempre mantenuto le boss fight il gameplay action non puoi mettermelo in maniera così affazzonata e mediocre però allo stesso tempo è esattamente come le minacce di morte ragazzi è tutto esagerato è tutto esagerato sì sono d'accordissimo e concludo in 30 secondi ragionamento come dicevo poco prima Sony ha la grande forza e il grande privilegio di poter spingere le sue esclusive in un determinato modo e nel 95% nel 99% dei casi riescono a far sì che la campagna marketing funzioni molto bene poi con eventuali contraccolpi pensiamo per esempio a No Man's Sky ok dove è stato spinto molto molto e poi comunque ne hanno pagato dazio almeno all'inizio quindi ci hanno provato ma da lì a dire che ci siano brutti rapporti no erano molto consapevoli del gioco che che era Death Stranding lo sapevano molto bene e quindi non penso che ci siano brutti rapporti abbiamo tempo per un altro paio proprio ti rubo il minuto Mike perché mi fa piacere secondo voi Bethesda farà vedere i suoi giochi alla conferenza Sony o Microsoft essendo che non farà la sua live in estate dunque sempre parto io brevemente il fatto che non faccia un suo showcase non lo sappiamo ancora esatto sappiamo però non perché è scritto su pietra ma perché a livello storico a livello logico sarà così che i grandi publisher Bethesda è un grande publisher i loro grandi titoli non li comunicheranno secondo me in prima battuta a casa di qualcun altro proprio perché la non esistenza di E3 dà il permesso dà la possibilità di impiegare il know-how verticale di ogni singola azienda nel comunicare il loro prodotto poi saranno anche altrove di giochi ma secondo me in prima battuta comunque nel grande momento non sarà sul palco di qualcun altro l'abbiamo visto con Assassin's Creed Valhalla yes ma mi puoi ripetere la domanda perché l'ho sentita per metà e poi ho perso scusami secondo voi Bethesda farà vedere i suoi giochi alle conferenze di Sony o Microsoft essendo che non farà la sua live in diretta in estate guarda ha dei giochi è talmente importante quello che sta facendo adesso che tra Elder Scrolls 6 e Starfield Deathloop Ghost of Wilde esatto allora per quanto riguarda i publishing eccetera io non vorrei che fossero due videogiochi di quelle presentazioni di cui abbiamo discusso prima ci sono ci sono però perché secondo me è una di quelle cose che specialmente in questo periodo con tutti i rimandi che hanno subito le varie conferenze eccetera possano avere una sorta di sinusoide di nulla nel senso che sanno che probabilmente è una di quelle cose talmente nuove come i P originali che devi decidere molto bene quando presentarle perché altrimenti è una dimenticata di nuovo quindi in questo caso dovrebbero presentarle quando manca poco all'uscita davvero non è la roba che genera troppo hype perché l'hype deriva da quello che sono dimostratamente in gameplay e a me specialmente il loop mi interessa molto cioè perché potrebbe essere o una cacata mondiale come banalità già vista mille volte oppure quel specialmente se specialmente se si va poi a sfruttare i discorsi caricamenti veloci nella next gen cioè lì il loop può essere una meccanica di gameplay quindi sì sono sono d'accordo soprattutto sulla curiosità di Deathloop Mike siamo i saluti prima di salutare ringrazio la chat tutti diciamo gli spettatori storici sia i nuovi iscritti grazie mille ragazzi insomma faremo il meglio che possiamo fare per farvi compagnia nei prossimi giorni domani torno a un nuovo appuntamento con questa serie di dirette talk dove ho invitato amici colleghi e persone che stimo per chiacchierare videogiochi ci saranno Raiden e Midna di Player Inside quindi se vi fa piacere passate anche domani poi farò il lancio sui social di Tom mi saluto saluto anche tu Mike io ti ringrazio ok ti ringrazio è sempre un piacere sempre mi mette di buon umore chiacchierare soprattutto quando abbiamo abbiamo temi temi interessanti ti romperò le scatole anche più avanti sappilo avremo chance finché mi dici di sì io ti vengo a distrappare è un piacere stupendo grazie ragazzi alla prossima buon pranzo e buona giornata ciao a presto ciao ciao